Coltelli, maceti e accette. È quanto impugnavano le dieci persone che hanno preso parte alla maxirissa che si è scatenata nella notte tra martedì e mercoledì in via Giacomo Matteotti. Due gruppi di giovanissimi, parliamo di ventenni, si sono affrontati in una vera e propria battaglia tra gang e se le sono date di santa ragione con tanto di armi al seguito. Il tutto è avvenuto intorno alle 2.30 di notte, quando un valoroso cittadino, così lo descrive il dirigente del commissariato di Viale della Vittoria, Paolo Guiso, ha chiamato il 113 per segnalare la mega rissa che si stava scatenando nella zona della via dove c'è la farmacia Matteotti, quasi all'altezza della mediana. La fortuna ha voluto che una volante passasse proprio nelle vicinanze della rissa in quel momento, per cui, quando è arrivata la chiamata della centrale, l'intervento è stato praticamente immediato. E probabilmente ha evitato il peggio. I due agenti sono scesi dall'auto e nel fuggi-fuggi generale sono riusciti a bloccare due ragazzi. Uno è un giovanissimo, poco più che ventenne, agli arresti domiciliari, proprio nel palazzo sotto il quale si è scatenato l'inferno. Con lui un altro ragazzo, arrestato perché fermato in flagranza di reato. Da quel momento sono iniziate le indagini degli uomini diretti dal dottor Paolo Guiso che hanno ricostruito i fatti e sono arrivati ad altre sei persone, denunciate per aver appreso parte agli incredibili fatti che hanno portato anche al ferimento di alcuni di essi. Nulla in confronto a quello che sarebbe voluto avvenire nel caso la polizia non fosse riuscire ad intervenire subito, sicuramente con grande professionalità, ma anche con un pizzico di fortuna. Gli agenti hanno scatato foto delle armi che i ragazzi portavano dietro e che sono state lasciarle sul posto al momento della fuga generale. Come detto, coltelli, maceti e accette, alcune delle quali anche di grandi dimensioni, abbandonati sul terreno di scontro. Sulle motivazioni del contendere, gli uomini del commissariato di Viale della Vittoria continuano ad indagare sotto le direttive della procura. Secondo il dirigente Guiso, chi parla di uno scontro per contendersi la piazza di spaccio fa illazioni perché non c'è nessuna evidenza in merito, ma al di là dei motivi resta sotto gli occhi di tutti la rapida escalation di degrado e violenza che si registra anche nella nostra città, un'ombra nera che ci fa pensare e rabbrividire. Grazie a tutti.